abbiamo un personaggione un ospite eccezionale veramente nel backstage di company contatto qui a monteberico ladies and gentlemen ladies and gentlemen io volevo presentarvi veramente un personaggio che insomma c'è non c'è nulla da dire marco carta ciao ciao buonasera ciao a tutti allora come stai alla grande tutto bene voi benissimo anche lui com'è andata quest'estate dai raccontaci racconta sempre in giro sempre in giro bellissima concerti disco stando bene è un'estate ricca bella e poi diciamo che quando uno dice non sono stato in giro tutta l'estate uno pensa andato a divertirsi in realtà si è andato divertirsi ma anche a lavorare giusto soprattutto lavorare perché il mare quest'anno il primo anno in 25 anni della mia vita che non lo vedo però l'importante lavorare appunto cioè senti questa sera c'è una piazza che è qui per te cioè monteverico è piena da qui fino in fondo io non so quante migliaia di persone ci sono ogni volta che diciamo marco carta c'è la pre viene giù tutto come lo so io lo so tanto che tu mandassi un ringraziamento e tuoi fan e le tue fan che sarà certo ringrazio veramente tutti perché poi ho visto un calore immenso lì hanno acclamato molto quindi per me questo è importante e allora un in bocca al lupo a marco carta se lo merita veramente se vuoi anche un saluto ai nostri ascoltatori visto che il tuo disco è assolutamente richiestissimo sempre in radio ormai l'abbiamo consumato quindi anche a loro un salutino piccolino dai un salutone grande grande a tutti gli ascoltatori di radio company grazie ciao marco ciao 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 ciao